Siamo a una delle due spiaggette di Spatia, vicino a Peseda. Questa è la spiaggetta, diciamo, dove c'è, dove si è raggiù dalla strada, dove c'è una specie di, qui non di porto, ma qui si possono mettere le barche a mare alle mie spalle, un po' più in là. Spiaggia di sabbia, acqua bella limpida, gente che si rinfresca perché ci sono almeno 35-36 gradi questa mattina. Sullo sfondo vedo un'isola, presumo sia Zante, visto che a sud di Cefalonia c'è Zante, e da Peseda si va a Zante. Il porto di Peseda è al di là di quello, di quel promontorio che indico col dito più o meno. Una seconda spiaggia, se lo si vede qui da lontano, poi mi avvicino, quella sotto con la parete scoscesa, però c'è anche scritto, state attenti perché se vi care un sasso in testa da lì, sono problemi. Di là serve la spiaggia più carina, però è appunto un po' più pericolosa per la caduta di sassi. Qua questo piccolo ormeggio.